Di Battista torna a Teramo, ha un feeling speciale con questa città e fa il pienone in Piazza Martiri. Ricorda le calamità che hanno martoriato l'Abruzzo negli ultimi due anni, terremoto, emergenza neve e blackout energetico di dieci giorni. Ma parla anche di quelle che definisce l'oro nero d'Abruzzo, e cioè le sue immense ricchezze naturali, ambientali, enogastronomiche e culturali. Ricchezze non ancora sfruttate, ma dalle quali ripartire. Infine, sottolinea anche come la politica si sia dimenticata dei terremotati e degli ultimi. Lancia un messaggio profondo. Quale tipo di mondo vogliamo? Quello vissuto negli ultimi trent'anni, che ha portato questa nazione in un pozzo senza fondo? O una società diversa, nella quale ritrovare speranza e dignità anche per gli ultimi, gli indifesi e gli ammalati? La scelta sta a noi, anche dopo il voto del 4 marzo.